Presidente, riguardo agli eventi in cui ha parlato prima di me, innanzitutto la solidarietà rispetto alle persone e alle popolazioni colpite, voglio esprimere un pensiero di profonda gratitudine a tutti coloro che si sono attivati nei soccorsi, sul posto, che come sempre vedono all'opera le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e anche volontari, le persone che si sono date da fare per venire in soccorso dei vicini, per venire in soccorso di chi ha bisogno, a loro va tutta la gratitudine. Un applauso al Governo che, coordinandosi in tutti i casi, dove questo è stato possibile e necessario con le autorità locali ha provveduto a interventi, naturalmente nei limiti del possibile, per venire incontro alle esigenze. Naturalmente noi sosterremo il Governo in tutte le attività che potranno rendersi necessarie, nel stabilire, nel decretare lo stato di emergenza, ove questo sia il caso e sia opportuno, è indispensabile certamente un'attività innanzitutto di manutenzione del territorio, questo l'abbiamo già detto quando ci sono stati gli eventi alluvionali nell'Emilia-Romagna e altrove, occorre una manutenzione del territorio e delle infrastrutture, una gestione dell'acqua che è troppo stata trascurata nel passato, con tutte le conseguenze che vediamo, i famosi laminatoi e tutti gli strumenti che possono servire da un lato a combattere la siccità di cui parlavamo fino a poche settimane fa, così come gli eventi determinati da piogge eccezionali specialmente se concentrate. Questo è sicuramente quanto noi chiediamo al Governo di fare, i grandi sistemi non possono togliere spazio alla necessità o le proposte di intervento sui grandi sistemi non possono certamente cancellare l'esigenza di intervenire sull'emergenza e sulla prevenzione dell'emergenza nel senso di essere attrezzati per gli eventi atmosferici eccezionali.